Buonasera, svolta nell'inchiesta sul Cesena Calcio, sequestrati questa mattina beni per 11 milioni alla società, all'ex presidente Igor Campedelli e ad altre 5 persone che abusando delle proprie posizioni e degli incarichi all'interno del club avrebbero messo in atto la frode fiscale che ha consentito di stornare dai conti della società, una cifra molto elevata. Vediamo il servizio. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni e conti correnti per 11 milioni al Cesena Calcio, all'ex presidente della squadra Igor Campedelli e ad altre 5 persone coinvolte nell'inchiesta della Procura di Forlì sulla squadra romagnola. Gli indagati, secondo l'accusa, attraverso una serie di raggiri contabili ed amministrativi avrebbero svuotato le casse del Cesena Calcio creando con quei soldi fondi neri che poi finivano sui propri conti correnti. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dal GIP Luisa Delbianco su richiesta del procuratore Sergio Sottani. Oltre a Campedelli sono coinvolti 4 imprenditori e 2 commercialisti di Cesena i quali abusando delle proprie posizioni e degli incarichi all'interno del club avrebbero messo in atto la frode fiscale che ha consentito di stornare dai conti della squadra ben 11 milioni. Le accuse sono avario titolo, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento IVA, simulazione di reato, appropriazione in debita, riciclaggio e falso in bilancio. Tra i beni sequestrati, denaro contenuto in rapporti bancari detenuti in 44 istituti di credito nazionali, conti correnti, depositi titoli e ben 6 cassette di sicurezza, un'autovettura, 19 fabbricati e 14 terreni situati a Cesena, Cervia, Rimini e Milano e 29 quote societarie per 144.166 euro relative a 27 società, il tutto per un valore complessivo pari a euro 10.915.344. Tra gli indagati, è bene ricordarlo, non figura l'attuale presidente Giorgio Lugaresi che è subentato dopo la disastrosa gestione di Campedelli. Tuttavia, trattandosi di beni societari e non personali di Lugaresi, il sequestro è scattato anche nei confronti dei conti correnti del Cesena Calcio per un totale di 3,6 milioni di euro, liquidità quindi che viene a mancare per la gestione ordinaria della società calcistica. Non è interessata dal sequestro invece la sede di Corso Sozzi. Fiera di Vicenza e Rimini Fiere hanno siglato una lettera di intenti con un accordo in esclusiva per verificare la fattibilità di un'operazione finalizzata all'integrazione delle due società. L'obiettivo è la costituzione di un soggetto fieristico nazionale in grado di competere sui mercati internazionali con la volontà subito dopo di accedere alla quotazione in borsa a Milano. Il servizio di Gianluigi Lucarelli. Nell'attesa che il sistema fieristico dell'Emilia Romagna trovi la sua identità, dalla riviera riminese si tende la mano oltre alla regione e si guarda al Veneto. La fiera di Rimini infatti punta ad un importante accordo con la fiera di Vicenza guidata da Matteo Marzotto. Le due fiere hanno siglato un protocollo di intenti per verificare la fattibilità di un'operazione il cui obiettivo è quello di integrare le due società in vista anche di una quotazione in borsa. L'obiettivo, si legge in una nota, è la costituzione di un primario soggetto fieristico nazionale in grado di competere sui mercati internazionali confermando la volontà di accedere alla quotazione in borsa secondo le tempistiche predefinite. Per il presidente di Rimini Fiera, Lorenzo Cagnoni, si mettono in campo, dice, i presupposti per un'operazione del tutto nuovo del settore fieristico, un'operazione che vede insieme due aziende sane e robuste, con ruoli distinti ma complementari, due aziende che scommettono sullo sviluppo di un progetto industriale che coglie evidenti opportunità di mercato e che le porterà a importanti dimensioni e volumi societari. Per Matteo Marzotto, presidente della fiera di Vicenza, questa operazione, dice, è una straordinaria opportunità per i sistemi tagli, innanzitutto dal punto di vista industriale, una vera novità per il settore fieristico nazionale. Grazie alle competenze e alla visione delle due società, al loro portafoglio prodotti di proprietà e alle performance reddituali, si potrebbe dare vita, spiega, ad una piattaforma di eccellenza. Uno dei primissimi exhibition provider d'Italia è senz'altro un player di valore internazionale dimostrando inoltre che anche in Italia si può fare sistema. Pur considerando un plus le radici di fiera di Vicenza e Rimini Fiera, verrebbero contestualmente e dinamicamente ampliati i confini e i due territori, conclude per molti versi simili e da sempre attivi sul fronte della valorizzazione e dell'internazionalizzazione per il Made in Italy. 13 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 5 divieti di dimora nella provincia di Bologna, l'esito dell'operazione Gamble Away condotta dalla Polizia di Stato nei confronti dei campanellari e truffatori simili a quelli che usano il gioco delle tre carte, operativi nell'area di servizio Sillaro sull'autostrada A14. Le indagini sono state condotte dalla squadra di Polizia giudiziaria del compartimento Polizia stradale di Bologna, decine le vittime dell'attività illecita del gruppo che specie in estate riusciva a ottenere l'auti profitti. Omicidio nella notte a Basilica Goiano, paese della fascia pedemontana della provincia di Parma, a perdere la vita un 32enne marocchino, ucciso molto probabilmente a colpi di badile o con un'arma da taglio dopo una violenta lite. Attorno a mezzanotte i vicini di casa avrebbero sentito prima le grida di due o più persone, poi la richiesta di aiuto dell'uomo, alla fine morto dopo una lunga agonia. Sono intervenuti i carabinieri per i rilievi, le indagini, un uomo è stato fermato e condotto in caserma per essere interrogato. Volano le esportazioni di prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna che nel 2015 hanno raggiunto la cifra record di 5,8 miliardi di euro con un aumento del 7,4% rispetto al 2014, quanto emerge da un'analisi di colpetti Emilia-Romagna in occasione della diciottesima edizione di Cibus sulla base degli andamenti rilevati dall'Istat sul commercio estero. Sempre più voglia di agroalimentare emiliano-romagnoli in tutto il mondo. Nel 2015 l'export ha infatti realizzato un incremento del 7,4% sull'anno precedente, raggiungendo la cifra record di 5,8 miliardi di euro. A mettere infine i numeri in occasione di Cibus, il Salone Internazionale dell'Alimentazione in programma Parma e la Col di Retti regionale sulla base degli andamenti rilevati dall'Istat sul commercio estero. Tra il 2007 e il 2015 le esportazioni del settore, osserva l'associazione, sono cresciute del 56,7%, una cifra ben superiore a quella delle esportazioni totali. In quello stesso periodo così la quota dell'export agroalimentare emiliano-romagnolo sul totale delle esportazioni è salita dal 7,9% al 10,4%. Sicuramente merito di Expo e della vetrina che ha offerto per i prodotti e le risorse della nostra regione, specifica Col di Retti. A giudizio dell'associazione inoltre l'andamento sui mercati internazionali potrebbe ulteriormente migliorare con una più efficace tutela nei confronti dell'agropirateria internazionale che utilizza impropriamente parole, colori, località, denominazioni e ricette che richiamano l'Italia. Proprio l'Emilia-Romagna, conclude, è in testa per numero di prodotti imitati che nel mondo hanno raggiunto il valore di 8 miliardi di euro, 4 miliardi dei quali riguardano il parmigiano-reggiano che risulta infatti il prodotto italiano più taroccato del pianeta. E adesso è il momento del consueto appuntamento con la nostra rubrica dedicata alla contesa Estense, città di lungo 2016. Il nostro viaggio all'interno della contesa Estense ci porta oggi ad esplorare il rione De Brozzi e con quale spirito questo rione affronta l'attesa contesa. Nel ricordo di Angelo Minghetti, storico personaggio di Brozzi, scomparso poco tempo fa, si guarda con fiducia all'edizione 2016, pronti a gustare le prelibatezze dell'Osteria del Gallo. Sentiamo il racconto del Presidente Stefano Minghetti. Stefano Minghetti, un amico come tutti i rionali della contesa Estense, intanto come Presidente ti chiedo il rione De Brozzi, con quale spirito affronterà quest'anno la contesa Estense 2016, ricordando anche chi non c'è più tra di noi, sia nel vostro rione che in altri rioni è mancato, credo, due grandi spiriti. Sicuramente, sia nel nostro rione che in un altro rione purtroppo ci hanno lasciato e quindi... Ricordiamo Papà Angelo. Papà Angelo, mi è emozionato un po' a parlare, anche se è già un anno però è un po' fatica, manca molto. Lo spirito con il quale il rione De Brozzi affronta le gare è sicuramente quello sempre della lealtà e il nome della sportività, perché ricordo che comunque noi in questo momento stiamo rappresentando 500 persone e queste persone dedicano molto tempo e con tanta volontà e quindi devono essere premiati, vincenti o perdenti, comunque sempre a livello di lealtà e di sportività. Quindi i nostri ragazzi, tanti minorenni, si stanno impegnando al massimo e io li voglio ringraziare pubblicamente perché stanno veramente tutte le sere della settimana, qualche d'uno, dai tiratori ai tamburini alle chiarine agli smandiratori, sono presenti agli allenamenti e quindi è un duro sacrificio e va premiato se non altro da parte nostra con la lealtà. Stefano, anche un'osteria, anche la vostra, che funzionerà lungo questi giorni di contesa perché diciamo che è l'anima pulsante. Anche quest'anno avremo delle novità, quindi invito tutti quanti nell'osteria del Gallo a venire a provare le novità che presenteremo quest'anno. L'auspicio nostro, siamo agguerriti, quest'anno l'impegno c'è e se vincessimo anche tutto non ce ne facciamo caso. E come di consueto concludiamo il nostro appuntamento del martedì con le previsioni del tempo per tutta la settimana in Emilia Romagna a cura di tre bimette, oggi ci racconta quale sarà il tempo nella nostra regione Fabio Dalio. A inizio una fase più instabile e dinamica sull'Emilia Romagna, domani infatti arriverà un peggioramento che porterà pioggia e rovesci anche diffusi, specie sui settori emiliani, con qualche colpo di tuono non escluso e un calo delle temperature, specie quelle massime. Poi da giovedì ci sarà qualche schierita in più, in particolare sul comparto Romagnolo, dove i venti di Garbino favoriranno una giornata nel complesso soleggiata, seppur con qualche equazione pomeridiano ancora possibile tra l'Appennino e la pianura centro-orientale emiliana. Venerdì potrà essere ancora instabile, con sviluppo di piogge e rovesci a carattere sparso, più probabili questa volta durante le ore diurne, mentre in vista del weekend continueremo a essere dominati da una spiccata variabilità, con rischio per nuovi possibili piovaschi. Insomma vivremo un periodo piuttosto turbolento e a tratti fresco sulla nostra regione, per attendere un miglioramento un po' più deciso bisognerà molto probabilmente attendere la prossima settimana, quando l'alta pressione sembra rinforzare da ovest verso la nostra penisola. E ora invece le previsioni del tempo per la giornata di domani. Piogge persistenti su tutto il territorio sin dal mattino e per tutta la giornata associate a locali episodi temporaleschi. I fenomeni avranno una temporanea intensificazione durante la notte sul settore centro-occidentale, per andare poi ad esaurirsi. Temperature minime attorno ai 16 gradi, massime in generale flessione con valori comprese. Temperature minime attorno ai 16 gradi, massime in generale flessione con valori compresi fra 17 e 18 gradi. Venti deboli orientali con rinforzi sul mare e sulla costa in intensificazione nella notte. Mare inizialmente poco mosso con moto ondoso in aumento fino a divenire molto mosso. Per oggi è tutto, vi lascio come sempre a Oltre la Notizia, vi do appuntamento a domani alle 20 con il nostro telegiornale. Vi auguro una buona serata, arrivederci. Grazie.